Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Per le statali sul raccordo Siena-Firenze segnaliamo scambio di carreggiata per cantieri tra Firenze-Certosa e San Casciano Nord e in direzione di Siena. Ci spostiamo sull'Aurelia, cantieri aperti al chilometro 302 tra Calafuria e Quercianella. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario, l'Eurostar Frecciarossa a 95.41, Milano Centrale Taranto sta viaggiando con 25 minuti di ritardo. Il transito a Firenze-Santa Maria Novella al momento previsto alle 17.24, salvo recupero. E prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Firenze-Düsseldorf delle 17.35 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 17.50. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!